Buonasera Luca, dai e dai ma con un pullman davanti alla porta diventa difficile segnare, no? Sì è stato difficile, secondo me oggi c'è poco da rimproverare alla squadra, anche da dentro al campo si percepiva la voglia, la determinazione, secondo me ci abbiamo messo grinta e cuore e poi è difficile, loro sono una squadra così, l'abbiamo studiata però oggi ci portiamo a casa a questo punto. E' un Parma che non riesce a fare il salto di qualità, è sempre in una posizione a cavallo tra la zona playoff che può diventare in prospettiva pericolosa, tu che sei arrivato fresco ti sei fatto un'idea perché non si riescono a fare due vittorie consecutive ormai da tempo in memore? Non te lo so dire sinceramente, secondo me dobbiamo continuare così, l'unico metodo, lavorare bene, oggi dà il secondo risultato utile, dobbiamo fare il terzo, c'è poco da fare, come ho detto poi gli allenamenti noi diamo il 100%, c'è un clima di serenità e di voglia e dobbiamo continuare così mettendo ancora forse qualcosa in più per vincere la partita. Ciao Luca, ti chiedo quanto e cosa cambia dal punto di vista tattico la presenza o meno di Vasquez da falso nuere? Ma lo sappiamo tutti che Vasquez è un campione assoluto e quindi sicuramente oggi ci avrebbe dato una grandissima mano, però dobbiamo anche senza di lui riuscire a fare partite, secondo me oggi in parte ci siamo riusciti e forse è mancato quel guizzo che poteva darci lui ecco. Il fatto di non aver perso oggi può costituire un piccolo punto di ripartenza, visto che comunque sono arrivate due sconfitte consolutive casalinghe nelle precedenti uscite. No, oggi pareggio dai. Pareggio, pareggio, sì sì sì, il fatto di non aver perso oggi può essere un punto di ripartenza. Sì, assolutamente secondo me, il pareggio non è sempre da vedere come dei punti persi, a volte è un punto di partenza e continuare questi risultati magari ci porta a quella continuità che è mancata in questo periodo. Ciao Luca, mi ricollego a questo argomento, ci può stare il pareggio contro una squadra così solida, compatta, difficile da scardinare, non a caso da quando è arrivato Bisoli hanno perso solo due partite, Ma per un giocatore come te, con le tue caratteristiche veloce, rapido, passi brevi, nello stretto quasi, non fai mai vedere la palla, cosa cambia affrontare una difesa, anzi due linee da quattro così strette, così serrate? E' anche snervante, ti chiedo psicologicamente, racconta un po' la tua partita. No, noi lo sapevamo, quindi eravamo già nella mentalità che sarebbe stata questa la partita, ovviamente si può dar sempre di più, magari è mancato quel pizzico a tutti quanti per far gol, Però secondo me serve anche pazienza, a volte la perdavamo e prendavamo gol, ecco. Oggi secondo me dobbiamo vedere il positivo, siamo stati attenti al 100% tutta la partita, anche dietro e davanti, secondo me fino alla fine abbiamo giocato con un'idea di andare larghi, andare al cross, Quindi secondo me siamo stati bravi in quello che abbiamo fatto. Ecco, è cambiata un po' la filosofia, visto che parlavi di andare sulle fasce e mettere i cross in mezzo rispetto al gioco del tuo minster che conosci bene dai tempi della Juventus 23 e della Cremonese, cioè è un po' una novità quella di vedere la squadra di Pecchia che fa dei cross dall'esterno. Ma no, anche gli anni passati li facevamo, sviluppavamo in maniera diversa, comunque quando affronti il Parma, come noi lo affrontavamo l'anno scorso, se davi il 100% alle altre partite contro il Parma dai il 102%, e quindi magari ti metti un po' più dietro e cerchi di ripartire, invece contro il Sud Tirol è venuto a giocare contro il Parma e si è messo dietro come fanno tante squadre, no? Anche con l'Ascoli abbiamo fatto il secondo tempo di dominio e è mancato il gol, sicuramente dobbiamo sempre lavorare di più, l'unico modo per arrivare a ottenere risultati è dar qualcosa sempre di più a ogni partita. Senti, l'ultima per me, ti manca un bonus, ti manca un gol, un assist, quest'anno ti sta un po' mancando, come lo possiamo vedere su punizione, su tiro da fuori, su inserimento, una sgroppata? No, non ha importanza, ovvio che voglio segnare, voglio fare assist, l'anno scorso li ho fatti. Perché si vede che lo vuoi. Certo, certo, come ogni giocatore vuole fare il meglio, magari mi mancano nove partite, sicuramente darò il 100% per farne il più possibile. Grazie. Grazie mille. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Grazie.